Onorevole Ermellino, lei ha parlato delle difficoltà che vive il territorio, è una su tutte la questione ILVA. Quale futuro per l'ILVA? Perché siamo partiti dalla chiusura, alla chiusura programmata delle fonti inquinanti, alla chiusura programmata delle fonti inquinanti, ora Di Maio sembra voler conciliare lavoro e salute. Quindi l'ILVA non chiude più? No, non mi risulta. L'ILVA chiude? Allora, io al momento sto attendendo, come stanno attendendo tutti, che vengano lette tutte le 23.000 pagine del dossier e stiamo aspettando di capire quale sia la soluzione migliore per il territorio. Sicuramente in questi anni abbiamo avuto prova che lavoro e salute devono essere tutelati, ma non possono farlo con delle fonti inquinanti così importanti aperte. Però in campagna elettorale si è parlato di chiusura, quindi a questo punto l'incontro con le associazioni non doveva proprio avvenire. Perché se Di Maio avrebbe dovuto mantenere l'impegno di dire in campagna elettorale ho parlato di chiusura dell'ILVA, ora chiudo l'ILVA. Ora invece si sta valutando se chiuderla o meno. No, non credo che sia questo che si stia valutando. Maio ha fatto giustamente cose che non aveva mai fatto nessuno. Ma chiude o no l'ILVA? Vogliamo saperlo. Noi lo sapremo. Quindi la promessa di chiudere, quindi quella promessa potrebbe anche non essere mantenuta, quella della chiusura. Assolutamente non sto dicendo questo, non mi mette la bocca a parole. No, voglio sapere chiude o no l'ILVA. Aspettiamo che lo dica Di Maio. Quindi non si sa cosa succederà. No, stanno finendo di studiare tutti i dossier. Potrebbe rimanere aperta. Sto valutando ogni tipo di opzione. Quindi potrebbe rimanere aperta. Non credo che sia la soluzione migliore per Taranto. Anche io non lo credo. Io devo parlare per me. Ma anche io condivido questa posizione. Però ripeto, pacta servanda sunt, lei viene dal mondo classico e quindi a questo punto se in campagna elettorale io dico chiudo l'ILVA, io non devo dire vediamo se cosa è più opportuno. Io la chiudo e basta. Io, è giusto per puntualizzare, noi abbiamo sempre parlato di chiusura delle fonti inquinanti perché fonte inquinante non è solo l'ILVA. Quindi già stiamo distraendoci un po' dall'ILVA, ampliando il tiro. È molto più ampio il problema. Noi sappiamo benissimo... L'ENI, la marina militare, la CEME... Abbiamo una situazione ambientale importante. Infatti dal punto di vista ambientale con il Ministro, con gli altri colleghi che sono in Commissione Ambiente si sta lavorando tantissimo. Però c'è un'affermazione di Di Maio, non vorrebbe perdere Mittal, è grave questo fatto. Alla 7 ha fatto queste dichiarazioni. Vabbè, guardi, io onestamente non ho contezza di questa affermazione, bisogna vedere in che contesto è stata fatta. A Mittal bisognava chiudere la porta in faccia sin dall'inizio, atteso che si voleva chiudere l'ILVA. Ci sono dei contratti in essere, firmati da un governo precedente. Riccedere quei contratti senza una causa oggettiva può portare a delle spese molto superiori. Ma in campagna elettorale sapevate che c'era Mittal, non è che Mittal è comparso all'improvviso. Quindi avete mentito sapendo di mentire? Assolutamente no, avevamo bisogno di conoscere bene i documenti che fino ad oggi risultano ancora soltanto nelle mani, per fortuna, dell'attuale Ministro del Sviluppo Economico e che fino a qualche giorno fa erano secretati. Se dobbiamo parlare sulla base del pensiero, non va bene. Senta, simpaticamente, cosa vogliamo scommetterci? Che purtroppo l'ILVA non chiuderà. No, io non ci scommetto su questo, mi dispiace. Purtroppo sulla pelle dei tarantini capiterà questo.